Parlerà il Presidente Conte, è quasi finito l'incontro, parlerà lui. Possiamo chiedergli del calcio? Sullo sport sicuramente cercheremo di contemplare il proseguo di tutte le attività e anche del campionato, però ne rispetto la salute per tutti, per cui si va verso questo tipo di provvedimento. Adesso parla il Presidente Conte, questo è da vedere.